Lamb è un film del 2021 diretto da Valdimar Johansson, che è qui al suo esorio della regia. Siamo in Islanda e una misteriosa presenza vaga per le campagne islandesi, appunto. Magari facendo capolino in un recinto in cui si trovano tante pecore. Nei giorni successivi a questo evento, una coppia formata da Maria e Ingvar, che sono agricoltori fattori che sono appunto i proprietari di questo recinto, questo fienile in cui sono presenti tutte le varie pecore, fra le varie attività che fanno, aiutano anche le pecore, quando è necessario, a partorire. Improvvisamente, però, a in qualche modo interrompere l'esistenza così ripetitiva, molto opacata, semplice, fatta di cose quotidiane, assolutamente, una delle pecore partorisce improvvisamente una sorta di ibrido bambina-pecora. Questa cosa, inizialmente, è già detta nello sconcerto, la coppia, ma ad un certo punto, in qualche modo, decidono di prendere con sé questa bambina, appunto, e di lì a poco le danno un nome, la chiameranno Ada, e successivamente, in qualche modo, la cresceranno come la propria figlia, essenzialmente. È surreale questa cosa, è surreale, e in qualche modo, l'unico elemento che un pochettino, a un certo punto, metterà in crisi questa strana surrealtà in cui ci troviamo di fronte, è il fratello di Ingvar, ovvio sia Petor, che, inizialmente, avrà problemi a riconoscere quanto sta accadendo come qualcosa neanche di normale, di accettabile, per certi versi, lui stesso cercherà di porre fine a questo strano ibitro, ma a un certo punto, probabilmente, arriverà a essere ammaliato, in qualche modo, da questa strana bambina, e quindi, alla fine, anche lui la accetterà di essere lo zio di questa piccola. Che dire, questo film è qualcosa di veramente originale, per certi versi, a meno per quelle che sono le visioni tipiche che posso fare io. Io sono un grande amante, comunque, della narrativa fantastica, eventualmente, quando c'è un elemento molto particolare, posso anche sfociare un pochettino e andare a vedere l'horror, per certi versi, sebbene io non sia un grande amante di questo genere. Sono rimasto molto colpito da questo film, in senso positivo. Soprattutto è stata un pochettino l'estetica complessiva a colpirmi, perché c'è questa Islanda così magnifica, in realtà piena di bellezze, che al tempo stesso, secondo me, per certi versi, un pochettino però, è riuscita anche a, in qualche modo, simboleggiare il vuoto, che in realtà, molto probabilmente, è presente, almeno in parte, nella vita dei personaggi principali. Su tutti, quella che spicca un pochettino di più, il personaggio di Maria, interpretata da Nomira Pace. Probabilmente c'è stato un lutto, a un certo punto, dell'esistenza della coppia Maria Ingvar. Un lutto che, in qualche modo, attraverso questo ibrido bambina-pecora, si cerca, in qualche modo, di superare, perché in fondo, in fondo, forse, non si è mai superato. Questo vuoto così strano, questo vuoto che si cerca di colmare con un qualcosa che, palesemente, evidentemente, non può essere una vera soluzione. E, di fatti, io, personalmente, quando poi, a un certo punto, la misteriosa presenza che abbiamo visto all'inizio di questo film, in qualche modo, si ripalesa, in qualche modo, decide di riprendere con sé ciò che è parte di sé, effettivamente, io l'ho visto un pochettino, nella mia personale interpretazione, come la realtà che, alla fine, in qualche modo, soppianta il palliativo che noi possiamo darci per cercare di superare, in maniera, secondo me, in qualche modo sbagliata, un qualcosa che ci è capitato. È dolore quello che vediamo alla fine di questo film. Un dolore che, in realtà, all'inizio di questa storia, non ci viene neanche particolarmente presentato. In realtà, noi capiamo che ci deve essere stato del tormento, del dolore. Capiamo che questa coppia, apparentemente così dedita all'esistenza di tutti i giorni, questa coppia molto semplice, fatta di brave persone, che sono forse un pochettino lontane da quello che è il loro contesto, non soltanto, però, per motivi geografici, ma al tempo stesso, anche quando leggono o sentono delle notizie, sembrano tutte quante notizie molto distanti, molto distaccate dal resto della realtà, sembrano questi personaggi, dal resto delle altre persone. C'è un pochettino di crisi in questo distacco, se vogliamo, quando arriva il personaggio di Petro, il fratello di Ingvar. Questa cosa, un pochettino, li fa in qualche modo riinteragire con una realtà, in qualche modo probabilmente fallimentare, che però è realtà anch'essa, nonostante magari non sia andata come si sperava potesse andare. L'estetica generale di questo film è molto colpito, ma l'Islanda deve essere un posto meraviglioso, non ci sono mai stato, da quel che vedo sembra essere veramente suggestiva, e al tempo stesso anche l'effettistica che è stata utilizzata in questo film, sebbene a tratti non sia perfettamente fotorealistica, a mio avviso, in qualche modo sta bene comunque con quello che vediamo, perché effettivamente, in qualche modo, questo film fantastico, dolore o quant'altro, è un po' grottesco, e quindi in realtà ha bisogno, per certi versi, di mostrarti un qualcosa che palesemente ha qualcosa che non va bene, rispetto a quella che è la realtà. Poi a un certo punto abbiamo la manifestazione di questa presenza misteriosa che sarà l'apice, per certi versi, di questa effettistica, se non in copiuta grafica, con protesi o quant'altro. È anche molto crudo questo film, è anche molto crudo, e ci sono dei momenti in cui comunque tensione ce n'è. Sto pensando ad esempio a quando, in qualche modo, la natura, nelle vesti della capra, mamma della bambina, cerca in qualche modo di riavere la figlia, e poi farà una brutta fine perché non mira pace, non si lascia portare via la bambina, e al tempo stesso è molto crudo, ad esempio, nella parte finale di questo film, in cui c'è addirittura la morte di uno dei personaggi, e poi c'è di fatto uno smarrimento, uno smarrimento in queste lande desolate, eventualmente in questa nebbia in qualche modo, che probabilmente, oltre a nascondere grandi presenze, nasconde anche, eventualmente, uno smarrimento interiore molto profondo, come magari quello della protagonista. Che dire, questo film, malgrado mi abbia colpito, non mi ha rapito perfettamente, però magari semplicemente non è troppo nelle mie corde come genere in realtà, però credo che possa essere una visione molto suggestiva, e quindi mi sento di considerarlo. Credo che sia un'ottima opera prima, e credo che questo nuovo regista, appunto, Valdimar Johansson, possa aver dato con questo LAMB la prova di essere uno che sa quello che fa, ha un'idea ben precisa, tutto sommato, e probabilmente in futuro ci potrà mostrare cose altrettanto interessanti. Quindi, se vi capita, guardatevelo.